Hai mai considerato quanto i carboidrati possano influire sulla tua salute generale e sul tuo stato d'animo? Questo video svela aspetti sorprendenti e ti guida a fare scelte alimentari più consapevoli, aiutandoti a comprendere come ciò che mangi, può davvero avere un effetto positivo sia sul tuo corpo che sulla tua mente, contribuendo al tuo complessivo benessere fisico, mentale ed emotivo. Bene, vediamo di cosa si tratta. Capire il vero impatto dei carboidrati sulla salute è cruciale per tutti, per uomini, donne, adulti, anziani e persino per i giovani. Perché? Perché un'elevata presenza nel sangue di una molecola particolare, lo zucchero, può causare problemi fisici, mentali ed emotivi a ognuno di noi. Questa consapevolezza ti aiuterà a gestire meglio i livelli di glucosio nel tuo sangue, un fattore chiave per il tuo benessere complessivo. Nel video utilizzeremo i termini zucchero nel sangue, glucosio e glicemia in modo intercambiabile per riferirci alla quantità di glucosio presente nel sangue. Esploreremo la fondamentale distinzione dei carboidrati e come una loro giusta scelta influenzi direttamente un livello ideale di zucchero nel sangue, il mantenimento d'energia e perfino l'umore e la stabilità emotiva giornaliera. La conoscenza è potere Questa conoscenza è vitale per chiunque, in particolare per coloro che sono diabetici o che potrebbero essere pre-diabetici e probabilmente anche tu lo sei e non lo sai. Un approccio intelligente alla questione dei carboidrati può prevenire picchi e cali glicemici improvvisi e dannosi. In questo video esploreremo come i diversi carboidrati influenzano la nostra giornata e la nostra salute, con conseguenze opposte. Un prossimo video spiegherà in modo semplice e comprensibile l'interazione quindi cruciale tra il glucosio, il fegato, il sangue, il pancreas e l'insulina. Questi due video sono interconnessi e aiutano quindi a capire meglio come ottimizzare la nostra salute fisica, mentale ed emotiva. Sicuramente varrà la pena dargli un'occhiata. Clicca la campanellina che ti avviserà a riguardo e iscriviti al canale. Definizione e struttura dei carboidrati Per non annoiarti con spiegazioni complesse e visto che questo video non è una lezione di biochimica molecolare, mi limito a dire che i carboidrati sono macronutrienti costituiti da biomolecole di carbonio, idrogeno e ossigeno. Utilizzerò il termine generico di saccaridi per descrivere i carboidrati nei loro diversi componenti in riferimento alle loro diverse forme. La struttura dei carboidrati saccaridi è basata su unità chiamate in gergo comune zuccheri. I carboidrati sono la principale, non l'unica, ma la principale fonte di energia per il corpo umano e sono suddivisi in base alla complessità della loro struttura molecolare. Il glucosio è il principale substrato energetico del nostro organismo. I tre componenti dei carboidrati riguardano la differenza tra carboidrati semplici, carboidrati complessi e la fibra, cioè la fibra un ruolo importante nell'alimentazione. Allezzeremo quindi questi tre componenti uno per uno. Carboidrati semplici I carboidrati semplici sono costituiti da una singola molecola di zucchero e sono la forma più semplice di carboidrati. Questi zuccheri semplici sono suddivisi in monosaccaridi come il glucosio, il fruttosio e il galattosio. O in dissaccaridi come il saccarosio che è una combinazione di glucosio e fruttosio, il saccarosio è il comune zucchero da tavola. Poi c'è il lattosio costituito da glucosio e galattosio. Ognuno di questi zuccheri ha una struttura chimica unica e un sapore caratteristico particolare. Questi zuccheri si trovano in una varietà di alimenti inclusi biscotti, dolci da forno, bibite, zuccherate, caramelle, dessert, pasticcini, creme, cioccolatini e molti snack confezionati. È importante notare che quando questi alimenti sono anche a base di farina bianca, l'effetto glicemico può aumentare notevolmente causando picchi nei livelli di zucchero nel sangue. Tale rapida digestione porta a picchi e cali glicemici, suscitando sensazioni di fame e affaticamento. Controllare le etichette degli alimenti può aiutare a identificare la presenza di carboidrati semplici in questi prodotti e adottare quindi scelte alimentari più consapevoli. Carboidrati complessi I carboidrati complessi sono polisaccaridi e trisaccaridi. I polisaccaridi sono costituiti da lunghe catene di zuccheri come l'amido, la cellulosa, il glicogeno e la pettina. Tutti questi sono fonti di energia a lungo termine. Questi si trovano in alimenti come cereali integrali, legumi e verdure. La loro struttura intricata e la presenza di fibre naturali li rendono più lenti da digerire, garantendo quindi un rilascio graduale di zuccheri nel sangue. Questo evita picchi e cali improvvisi dei livelli di energia, mantenendoli quindi stabili nel corso della giornata. La stessa cosa vale per i trisaccaridi, che includono tre unità di zuccheri, come il raffinosio, presente in alcune piante come le leguminose, con una composizione di glucosio, galattosio e fruttosio legati insieme. Alcuni esempi di leguminose includono fagioli, come fagioli neri, fagioli bianchi, fagioli rossi, fagioli pinto e borlotti. Lenticchie, come lenticchie verdi, lenticchie rosse, lenticchie gialle e lenticchie marroni. Poi ci sono i ceci, i piselli, i piselli verdi, le fave e la soia, compreso il tofu, il tempeh e il latte di soia. Inoltre le fibre presenti nei carboidrati complessi promuovono la sazietà e favoriscono quindi la salute intestinale, ma questo lo vedremo fra poco. Carboidrati semplici e problemi di salute La rapida digestione dei carboidrati semplici e dei loro picchi di zucchero nel sangue provocano una risposta del pancreas, che rilascia l'ormone dell'insulina, riducendo quindi i livelli eccessivi di zucchero nel sangue. Nel corso del tempo però questa situazione può portare a una maggiore resistenza delle cellule del corpo all'insulina, aumentando quindi il rischio di sviluppare diabete. Inoltre i picchi e i cali glicemici possono contribuire all'infiammazione nel corpo, la quale è associata a numerose malattie croniche, tra le quali malattie cardiache come l'ipertensione, la teriosclerosi, l'arteriosclerosi e l'infarto. Queste condizioni croniche collegate al diabete includono insufficienza renale e anche il cosiddetto piede diabetico, che causa ulcere e infezioni ai piedi, le quali in casi gravi possono richiedere perfino l'amputazione di una o più parti. Altre conseguenze associate all'infiammazione sono i problemi dentali, come gengiviti e paradontiti, disturbi cutanei come la psoriasi, la dermatite atopica e la rosacea. Inoltre l'infiammazione può contribuire a problemi emotivi, tra i quali stress, ansia, depressione e difficoltà nell'adattamento alla gestione della malattia. I picchi e i cali glicemici possono portare a gravi conseguenze, tra le quali la neuropatia diabetica, una condizione in cui i nervi periferici, specialmente nelle gambe e nei piedi, subiscono danni a causa del diabete. Inoltre il diabete può influenzare negativamente la salute degli occhi, causando danni ai vasi sanguigni della retina che, in casi estremi, può persino portare all'acicità. Fra l'altro l'eccessivo consumo di carboidrati semplici è anche associato all'obesità. Ripetiamolo. Tutti questi problemi derivano principalmente dagli effetti nocivi dei livelli elevati di zucchero nel sangue, causati dai tipi di zuccheri menzionati e dalle farine bianche, le quali, essendo prive di fibre essenziali, provocano i picchi glicemici menzionati. Pertanto è di vitale importanza sottolineare che la gestione e il controllo dei livelli di zucchero nel sangue, insieme all'adozione di uno stile di vita sano e al monitoraggio ovviamente regolare della salute, possono ridurre significativamente il rischio di sviluppare queste gravi malattie croniche menzionate e migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone. Come possiamo quindi gestire meglio il glucosio nel sangue? Vediamolo. Benefici dei carboidrati complessi. La struttura molecolare dei carboidrati complessi permette un assorbimento più lento di glucosio nel sangue, evitando perciò picchi improvvisi. Quando includi carboidrati complessi nella tua alimentazione, contribuisci a mantenere i tuoi livelli di energia stabili nel corso della giornata. Questo significa meno sbalzi d'umore, meno sensazione di affaticamento. Inoltre, se sei in sovrappeso, i carboidrati complessi grazie alle loro fibre ti aiutano a sentirti più sazio o sazia, favoriscono la regolarità intestinale e nutrono i batteri benefici nel tuo intestino, promuovendo quindi la salute intestinale. A proposito, se sei interessato o interessata a potenziare la tua salute intestinale, fattore chiave non solo per il tuo benessere fisico ma anche per il tuo benessere mentale ed emotivo, ti incoraggio a dare un'occhiata al video collegato a queste informazioni. Puoi trovare il link qui sotto o sopra, qui alla fine di questa considerazione. Fibre benefiche Abbiamo menzionato spesso le fibre. Definiamole dunque. Le fibre nei cibi sono principalmente costituite da polisaccaridi non digeribili che rappresentano catene lunghe di zuccheri legati tra loro. Questi polisaccaridi possono essere suddivisi in due categorie principali. Fibre solubili. Queste si dissolvono in acqua creando una sorta di gel durante il processo di digestione, regolando il livello di zucchero nel sangue. Fibre insolubili. Queste fibre non si dissolvono in acqua ma mantengono la loro struttura intatta mentre attraversano il tratto digestivo agendo da cibo ideale per il tuo microbiota intestinale. Entrambe queste tipologie di fibre svolgono un ruolo chiave per la salute digestiva e generale. Consumare una varietà di cibi ricchi di fibre possono contribuire quindi a mantenere il sistema digestivo e l'intestino in salute. Può aiutare contro la stitichezza e comporta una serie di benefici a lungo termine tra le quali appunto la riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete, obesità e disturbi digestivi, oltre ad influire positivamente sugli aspetti psicologici, mentali ed emotivi del tuo benessere personale. C'è un link qui sotto di un mio video che spiega quali sono i cibi ideali a riguardo. Scelte consapevoli e salute. In conclusione la scelta tra carboidrati semplici e complessi ha un impatto significativo sulla tua salute. Ho ripetuto di proposito tutti questi fattori chiave per il tuo bene così che tu possa ricordarli e agire di conseguenza. Fai scelte consapevoli e intelligenti al riguardo. Evita l'eccesso di carboidrati semplici, in particolare i farinacci bianchi come pane, pasta, pizza, pasticcini, fette biscottate eccetera. Un loro eccesso contribuisce alle malattie croniche già menzionate e ai sconcertanti sbalzi di energia e di umore durante la giornata. La ragione è che di solito questi cibi sono carichi di zuccheri raffinati, di glucosio, lattosio, fruttosio, maltosio e tutto ciò che finisce con osio come pure il destrosio, il galattosio, il raffinosio eccetera. Quindi tutti questi rientrano nella categoria dei carboidrati semplici. Aumenta invece i carboidrati complessi come le verdure, i legumi e i cereali integrali, i quali forniscono invece benefici sostanziali provvedendo al nutrimento del corpo e della mente. A proposito di mente, c'è un link qui sotto e alla fine che spiega come calmare la mente. Dagli un'occhiata, vedrai, ti sorprenderà. La conoscenza è potere, quindi prendi decisioni assennate per vivere una vita più salutare e soddisfacente. Fondamentalmente devi capire che noi esseri umani siamo essenzialmente organismi biologici e biochimici e tutti i nostri processi sono regolati e mediati da reazioni chimiche. Questo aspetto interconnesso tra biologia e biochimica è centrale per comprendere la vita e la salute umana. Come ultima nota, il benessere è un concetto multidimensionale e il suo significato può variare da persona a persona. Molte persone cercano un equilibrio tra queste diverse dimensioni per raggiungere uno stato di benessere ottimale e una vita soddisfacente. La chiave è riconoscere che il benessere non riguarda solo la mancanza di malattie, ma anche la promozione di una vita felice, sana e significativa e per la sua completezza anche spirituale. Spero questo video ti sia stato d'aiuto. Se hai trovato queste informazioni utili ti invito a iscriverti al canale. Unisciti a noi, metti un pollice in su, clicca la campanellina che ti avviserà dei prossimi video in arrivo. Controlla i video qui sotto e sopra e non dimenticare di condividere questi contenuti con i tuoi cari, familiari e amici. Al prossimo video!